buongiorno a tutti allora questo video lo vedrete domenica perché ormai ne ho fatti cinque vi ho già abbastanza lesionato i testi a sufficienza è un cicceremo cicili con il gigione per alcune situazioni che sto vedendo no mi stavo facendo le schedine guardo i campionati esteri campionato spagnolo gioca domenica campionato francese gioca la domenica campionato tedesco gioca la domenica il campionato inglese che addirittura wibledon una volta la domenica non si giocava eccetera perché qui perché su perché giù giocano la domenica campionato italiano la domenica non si può giocare perché pasqua poi però sotto natale giocano lo stesso vabbè battagli natale fortunatamente giorno prima il giorno dopo si gioca lo stesso quindi boh e stavo pensando il vaticano e ospite dell'italia o meglio è ospite di roma c'è al suo staterello all'interno di roma tutto quello che volete però è uno stato a sé stante tra l'altro l'italia gli concede di avere immobili sui mobili su cui non pagano una beata giovanna non si capisce perché loro sono i più belli dovrebbero essere d'altronde se qualcuno ha visto il nome della rosa c'era quel momento in cui volevano mettere a rogo san francesco perché amava signora povertà e loro dicevano la questione dov'è se dio era povero se gesù era povero ma se la chiesa deve essere povera e infatti loro sono lo stato più ricco del mondo e noi dobbiamo sottostare tra virgolette anche al loro volere poi arrivano le popolazioni nuove in italia ci sta noi siamo sempre stati gli accoglioni accoglienti sempre pronti a darti la mano poi si prendono un braccio e quindi va bene se uno viene in italia si comporta bene il lavoro fa il suo dovere tranquillamente non rompe i testi why not però è no perché se no si offendono allora devi coprire le statue perché se no si offendono che c'è il nudo devi permettergli di andare in giro come degli ombrelloni chiusi devi anche negare il natale che è sempre stata la festa la recita di natale la recita pasquale perché se no offendi e vale poi andiamo all'altra cosa che mi sta a cuore come sapete io se non sapete se no ve lo riempiono gli dico un'altra volta sto seguendo casa prima vista e in casa prima vista ci sono c'è stata una famiglia con il papà che di otta bravo simpaticissimo tra l'altro brava perso si vede proprio una brava persona tranquilla eccetera che di otta coi due figli lui si era sposato con una ragazza napoletana conosciuta al villaggio link e via dove faceva l'animatore sono nati due figli poi la storia è finita si sono separati ma sono rimasti in ottimi rapporti lui è sempre disponibile con i figli guai con i figli dove a cambiare casa e i due ragazzi carini intelligenti educati e c'era l'unico difetto era juventino vabbè il figlio era juventino ma vabbè da per il resto proprio si vede proprio l'educazione fatta persone così le vorrei a pacchi no come diceva una una comica altre video che diceva la gente così le vorrei a pacchi a pacchi a pacchi ecco quindi bello educato tranquillo cercava in zona brianza tra l'altro quindi una zona anche libidina e dalle parti di bozza paesi di vicino bozza quindi brianzoli lo sono un po come il milanese imbruttito e che cosa te fechi e possa via no quell'aria un po sdobosa no perché sai sono andato al che al club a giocare a a golf no ho fatto sono riuscito a stare tre quattro volte sotto il par però alla fine c'è un handicap del 7 di 7 8 colpi più o meno però sto migliorando bella gioia comunque dopo nota da cosa e l'altra poi sono andato anche all'altro club a giocare a tennis e ora che sono arrivate solo in semifinale del torneo classificati ma anche qua c'ho il maestro che probabilmente miglioro è tutta questa è già libidi del 1 2 ma la cosa bella è che ogni tanto ci sono famiglie con due mamme e due papà con i figli o con la figlia babba francesca mamma enrica papà giovanni papà francesco senza nessun problema e senza genitore 1 genitore 2 senza che il figlio dio c'ho due papà perché noi stiamo facendo una cosa esagerata stiamo andando del ridicolo sempre di più una volta si viveva tranquilli si rideva e scherzava dei propri problemi difetti e tutto quanto senza che nessuno andasse a piangere mi ha offeso oppure partissero le querele le denunce eccetera eccetera e io guardate quando vedevo vediamo proprio una coppia affiatata poi c'erano anche tante ragazze anche del ragazzo due ragazzi assieme non li ho ancora visti della del programma ho visto le famiglie due genitori mi sembra in due occasioni c'erano due genitori con i figli o con un figlio e in un paio di occhi di un'occasione due mamme con il con la figlia poi c'erano situazioni in cui c'erano due fidanzate che problema c'è non è che i ragazzi lì che si occupano di trovare le case sia a milano che a roma abbiamo detto no assolutamente noi due dello stesso sesso non gli troviamo la casa perché poi dopo il condominio magari si offende o che cosa poi in uno degli ultimi c'era questo ragazzo egocentristico all'arenato 0 che veramente sembrava un po pirata un po troppo simpatico e pensavo che avrebbe scelto non la casa che è scelto però alla fine della fiera si è preso la casa che costava vedo giustamente perché ha detto io budget di 500 mila euro e uno gliene offerte una che era una figata totale anzi come direbbe la la l una figata fotonica su tre piani casa su tre piani con sotto era un bar ragazzi dove era una taverna era un bar li poteva proprio creare quello che voleva una sala sala musica sala ritrovo sa perché lui era un po ipi no un artista che faceva serata eccetera e che quindi amava avere gente sempre della comune tra virgolette no che arrivava su artisti di vario genere ragazzi che magari arriva lì voleva sentire della musica voleva suonare per creare e quindi quella era perfetta però era sopra budget l'altra era un po tutta da rifare e costava un botto anche quella 5 60 e lui 500 più tutela la ristrutturazione dava a una cifra dorme alla fine ha scelto quella da 395 però era uno troppo troppo spettacoloso come personaggio e cioè e vedi l'italia bella che chi se ne frega se sono due genitori con il bambino due papà due babbe con la bambina con il bambino senza problemi senza senza che magari loro dicessero no lo più lo portiamo in una zona un po che stanno per i fatti loro non in un condominio che non si sa mai che poi la gente bla 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 perché sapete benissimo come è no non va bene rovina il degrado due maschi due femmine oddio adesso chissà cosa pensano se devo vendere la casa che poi ci hanno come vicini due e poi queste sono le cose tristiche con tutte queste divisioni ce le fanno creare perché ve l'ho detto no io continuo a non capire una cosa fanno il gay prime l'orgoglio gay l'orgoglio di qua l'orgoglio di suo l'orgoglio di giù giù poi c'è sempre quello che deve fare il fenomeno che va degli le paroline che non si dovrebbero dire loro se la prendono invece di rispondere agli si sono orgoglioso ditte così che cazzo te ne frega te fanno gli offesi infatti quando il ragazzo lì del bar noi lo conosciamo da da quando sono qua lo conosco perché in quel bar lì i primi anni eravamo sempre di però era gestito da il suo fidanzato che aveva il suo marito adesso non so come perché sono marito marito ecco diciamo così genitore uno del genitore uno papà uno e papà due papà francesco e papà enrico per dire per dire due domi a caso era gestito da edo eravamo lì a fare karaoke a fare le serate a vedere le partite eccetera eccetera poi dopo ha deciso di togliere le partite le partite ne siamo andati a vedere da un'altra parte ma il karaoke eravamo sempre lì perché ci piace il gigione è stonatissimo però fa spettacolo l'ho sempre fatto una volta adesso il karaoke l'hanno fatto diventare come il factor amici quindi o canti bene o canti bene se vai a cantare per fare un po divertire la gente eh no infatti io l'ultima volta che ero sempre di in quel locale stavo cantando tu vuoi l'america di beccato a metà canzone è arrivato uno a toccarmi sulle spalle allora è finito con ste stonate c'è ho preso dato il microfono al ragazzo che stava facendo karaoke e ho chiuso il discorso perché se non capite la gogliardia eccetera a rivederci e grazie quindi io se cose qua ripeto come anche quando la gente del sud oggi dice quella parola lì no se un terror come ti per me ma è vero dovresti essere orgoglioso loro sono orgogliosi di essere io al 5 al 25 al 30 al 40 per cento sono di beri perché quando ero piccolo vivevo sei mesi a milano sei mesi a bari sei mesi a milano sei mesi a bari e a bari siamo andati fin quando ha avuto 7 8 9 anni tutte le stati bilibo e quando ero piccolo ero sempre giu proprio perché mio padre lavorava per l'azienda elettro dei telefoni che allora era la sirti poi passato alla et per vari motivi e aveva lavorato anche in spagna è dovuto andare anche in spagna per un certo periodo quando ero piccolo piccolo dato via due o tre mesi penso ero piccolo non mi ricorderò forse avevo un anno massimo due quindi non mi posso ricordare lo so perché ci ha portato un sacco di cose dalla spagna qualcosa l'ho tenuta come le spade di toledo che ho appeso in anticamera quindi se qualcuno mi dicete se ben su terrodo bibica mi offendo perché vi devo offendere sul italiano il sud fa parte dell'italia come il nord e il centro quindi ripeto io ho imparato una cosa conoscerle le persone non a farvi influenzare dal fatto allora quello lì è così allora non lo frequento quello lì è cosa allora non lo frequento quello lì vota quel partito allora non lo frequento quello lì gli piacciono è un maschio ma gli piacciono i maschi allora non lo frequento io se una persona da reputo una bella persona maschio femmina che sia dovrò problemi a frequentarlo se uno c'è la puzza sotto il naso se uno è di quelli che c'ho ragione solo io sono laureato solo io chi non è laureata uno sfigato eccetera 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 questa gente che io vedo la vedo che gli sto e ve lo dico da principe scuse poco proprio perché doveva è piaciuto ma anche da quando ero ragazzino alle medie alle elementari va bene frequenti tutti i tuoi amici tutti amici tutti amici eccetera alle medie io frequentavo di più i ragazzi che avevano i genitori che erano immigrati magari il nonno era immigrato dal sud e poi i genitori erano nati qua o addirittura gli stessi genitori erano immigrati dal sud e loro hanno donati a milano quindi avevano la cadenza del sud e io mi sono sempre trovato quasi meglio con loro che non con il bilanese c'ho ragione solo io sono bello solo io eccetera eccetera perché in classe nostra alle medie qualcuno era così che infatti c'è stata una scena con uno dei miei più cari amici che purtroppo non ci frequentiamo più non voglio neanche chiesto l'amicizia su facebook come lui dove la chiesta e lui era uno che faceva molto sport ed era anche il nostro portiere di pallamano si stava allenando ed era praticamente appoggiato contro il muro come se fosse seduto ma era solo appoggiato contro il muro al sole e quindi stava anche grondando abbastanza perché stava facendo fatica gli si è avvicinato con l'aria schifata ha fatto così da sono raffreddato come per odorare e gli fa puzzi e se ne è andato mio amico ci è rimasto ed erano erano compagni di classe no c'è rimasto veramente male ma non era così era il figlio figo e quindi fortunatamente di gente così nella vita ne ho conosciuta pochissima anche perché non cerco di evitarli me l'ho detto perché non mi piace anche se tu magari uno può essere diplomato l'altro alla terza media uno può essere laureato e io solo c'è un diploma non è che facciamo io sono laureato vattene via i non laureati non li frequento e vabbè farò bene sinceramente non mi cambia la vita a parte e non chiedo mai a nessuno se ha una laurea o sdiploma o che cosa non mi interessa così come quando vi dico a me determinato partito sta sui testi però un sacco di miei amici votano quel determinato partito uno dei miei più chiari amici non riesce neanche a dire forza italia quando abbiamo vinto l'europeo e gli dicevano dai di forza italia no forza italia non lo dico forza azzurri al massimo ma forza italia perché perché gli ricordava il partito di berlusconi e gli faccio ma ormai non c'è più è l'italia che ha vinto se dici forza italia intendi la nazionale italiana intendi la nazione italiana non intendi quel partito lì no fa niente non riesco a dirlo per dirvi perché perché don camillo frequentava lo stesso peppone don camillo stimava peppone però non direi idee opposte ed è questo che dovrebbe essere il bello avere idee opposte da frequentarsi lo stesso perché ci si stiva invece ormai è una divisione continua noi vogliamo dire l'italia fare l'italia unita ma si odiano tra bergamaschi e bresciani si odiano in toscana non so quale 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 paese toscano citato anzi città toscano paese città toscana è amica con un'altra città toscana perché anche lì si odiano vicenda a giù in campagna si odiano tra napoletania vellinese cosa vogliamo unire l'italia noi sapete quando siamo uniti se per ipotesi un'altra botta di fortuna l'italia dovesse andare avanti tanto all'europeo allora si vedi la coesione degli italiani se per una botta di fortuna dovessimo ancora vincere l'europeo non penso perché non abbiamo una squadra all'altezza di certe superpotenze per me già se arriviamo in semifinale è ora è un apoteosi allora si vedi si abbracciano anche tra veronesi e napoletani eccetera invece non si possono vedere c'è stato quando abbiamo vinto nel 2006 c'era una comitiva di napoletani una comitiva di veronesi che si sono trovati a vedere la partita l'autogrill da finale e alla fine si sono abbracciati come fratelli eccetera tutti felici e contenti tutti italiani poi basta poi si torna le solite soliti battibecchi le solite cose le cose e vabbè era così bello prima poi vabbè stiamo su una sempre sul era più bello prima perché anche qua ce ne ce n'è allora molta gente continua a dire era così bello citofonare andare dagli amici c'era una rottura di balle era una perdita di tempo tu perdevi mezz'ora del tempo che avevi a disposizione che di solitamente era anche poco soprattutto delle giornate d'inverno che alle quattro e mezza era già buio perché purtroppo a milano alle quattro e mezza ottobre novembre così vedi a buio subito a dicembre c'è un freddo che metà bastava o c'era la nebbia io mi ricorderò sempre da un giorno eravamo in parrocchia il campo della parrocchia un campo che è un campo da cinque lo facevi diventare da sette perché eravamo ragazzini quindi non occupavamo tanto spazio e quindi ci sembrava un campone vi rendetevi conto non si vedeva da una porta all'altra io ho giocato a pallone una volta lì alla qt8 dove abitavo in parrocchia che non vedevamo da una porta all'altra proprio per farvi capire come avessimo avuto adesso allora quello che avevamo adesso noi gruppo whatsapp calcio gruppo whatsapp alla canestro gruppo whatsapp bicicletta ci si messaggiava direttamente e ci si trova direttamente al campo perché non credo che ai miei tempi quando eravamo elementari e medie avremmo rinunciato a giocare a pallone per stare sui social a fare il curucu sui social magari ci stavamo per aiutarci delle lezioni sul computer ci stavamo quando c'era da preparare le le ricerche che le prendevi direttamente reali te le stampavi in un quarto d'ora ce le avevi pronte è pronta la maestra senza dove stare a copiarle dal dal costo delle ricerche che perdevi due ore a copiarle perché quel maledetto trafiletto malefico che sembrava un francobollo era talmente scritto in piccolino che quando avevi finito di copiarlo avevi fatto quattro pagine di foglio protocollo quindi perdevi minimo un'ora ad andar bene poi dovevi incollare la fotina eccetera 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 poi libidine youtube voglio sentire della musica decido di sentire le canzoni di un determinato cantante ve ne sento voglio fare un visto anni 60 di 70 anni 80 lo faccio anni 90 voglio sentire le canzoni di adesso non ha fatto in tempo ad averle che sono fuori già ce li hai su youtube senza stare a impazzire invece una volta dove ascoltare i dischi che avevi e magari volevi sentire una determinata canzone e non potevi andare sulla radio radio italia se non la canzone italiana su se non straniera dove andare su radio dj o simili e sperare che magari passasse e quindi stabili un'ora due ore tre ore a sentire canzoni che non te ne fregavano una beata giovanna in attesa magari di sentire la canzone che volevi sentire quindi per cui magari avessimo avuto quello che c'è adesso poi pensando se qualcuno mi dicesse gigi vorresti tornare indietro sì ma vorrebbe dire rifare le elementari le rifaccio volentieri perché sono stato il periodo forse più bello del periodo scolastico le medie sono state un incubo a parte la prova di matematica ancora viva al pensiero beata lei e ci mancherebbe io non auguro la morte a nessuno però quando sento dire sempre così gentile come era una stronza scusate il francesismo si divertiva ma ha preso per lo zibbellino del io ero lì che vi impegnavo eccetera questa vi prenderà per i fondelli sentiamo luigi oggi che stronzate di do che stronzate che stupidate dice già ero da piccolo ero timido purtroppo poi crescendo sono diventato un faccia di merda ma la piccolo ero timidissimo ero sempre molto rispettoso verso tutti perché mi avevano educato a essere rispettoso e quindi avevo diciamo soggezione verso gli insegnanti eccetera se poi dopo ti metti anche a prendermi per i fondelli infatti quando in seconda sul media è venuto il sostituto il matematica andavo bene speravo si fosse fosse andata in pensione ho detto così a me non l'anno prossimo ancora questo professore qui sono tranquillo invece è tornata lei e va bene l'esame sono stato lì all'esame no c'era l'esame di geometria cresci geometria che c'era allora me lo ricordo ancora era il classico cilindro con sopra la piramide però era appoggiata quindi non aveva la base in comune quindi dovevi tenere separati i conteggi per fare ci ho messo quello che ci ho messo però ho fatto tutto l'esercizio preciso non sono riuscito a fare l'espressione esame di terza media c'è da parlare appunto del perché me lo ricordo ancora e me e mi fai se tefani allora il compito di geometria è andato molto bene l'hai fatto tutto giusto beh però non hai fatto l'espressione quindi più di sé non ti posso dare dove ho avuto tempo mi davate più tempo riusciva a fare anche l'altro come il tempo era quello e ho fatto quello che ho potuto al fono fatto bene mi interessava fare bene quello lì che era quello obbligatorio l'espressione era facoltativa se riuscivi a farla bene se no siccome sono riuscito a fare quello l'espressione non sono riuscita a fare sempre no perché poi ai miei aveva detto quando mi hanno detto guardi non vogliamo fare ragioneria al san celso una scuola sprivata buttatevi i soldi mandatelo a zappare eccetera 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 il gigione si è preso il suo diploma e cinque anni e in prima superiore a parte stereografia che io in stereografia sono imbranato le altre materie avevano la media del 7 alla facciazza di quella che guardatelo a zappare quindi quando ho sentito del gruppo della matteo ricci che era la scuola media dove andavamo che la mia prof è ancora viva a 103 anni ed era giugno dell'anno scorso minchia scusate il francesismo quindi solo in attesa la poverina cioè però ragazzi miei io non auguro la porta a nessuno ci mancherebbe però visto come se come se comportata con me capite che avrei preferito sentire che fosse stata viva qualche altra mia insegnante non lei poi beata lei ci mancherebbe comunque niente vi ho ricordato anche questi episodi del passato direi che abbiamo detto tutto non voglio dilungarmi troppo sennò poi diventano video di 57 minuti e vi rompete i testi però ripeto era così ho preso spunto dalla questione della pasqua poi domani naturalmente domenica vi faccio il video di auguri oggi è sabato quindi gli auguri li facciamo alla domenica tanto in un quarto d'ora sono online quindi del primo pomeriggio di domenica e la finisce aspettate che guardo se c'è la gara alle 12 e 30 anche domenica o solo oggi perché oggi alle 12 e 30 c'è la partita a noi vero domani non ci sono partite che sciocco è vero l'ho anche detto quindi domani con comodo anzi oggi perché questo video lo vedrete appunto la domenica quindi oggi pomeriggio dopo questo video adesso è sabato per un velovo volevo mettere subito al sabato me la petto della giornata di domani quindi domenica domenica vi faccio anche gli auguri di pasqua li faccio solo io non sto a farli fare a don gigi e quant'altro che è o magari faccio fare anche don gigi fa niente vedremo come come gira vedremo come va ragazzoli niente abbiamo parlato un po di tutto mi sembra di aver detto un po tutto poi ve l'ho detto guardatelo casa a prima vista che è carino i gli agenti immobiliari sono una forza io l'ho fatto per per dieci mesi ma non so non è che non sono adatto perché la parlantina ce l'ho però non avevo più vent'anni ragazzi e quindi la voglia di girare come una trottola la voglia di per di più a milano devo dire che sono tutti molto resti a darti la cosa per vendergli la casa perché devo pagare devo fare preferisco farlo da solo no ma se lei riesce a trovarmi qualcuno ben volentieri poi c'erano quelli che invece cercavano una casa che era la cosa che a me piace molto di più trovare la casa per me per le persone che era una cosa che mi piaceva solo che ogni volta che andavo sul mobiliare punto hito del gruppo remas visto che comunque lavoravo in remas e avevano qualcosa come 13 agenzie o forse di più solo a milano chiamavo i colleghi perché gli dicevo guarda avrei un cliente che sta cercando proprio il tipo di casa che hai tu eccetera c'è è già venduta stiamo già facendo il rogito c'è già una persona interessata vabbè come l'ho detto chiamavi un altro stessa cosa che aveva un altro stessa cosa dopo un po ti scazzavi anche oppure c'erano quelli che cercavano l'impossibile no con un budget limitato volevano la posto da una zona figa e la casa figa cioè se in una zona vedono a 4.000 metri a 4.000 euro al metro quadro e tu cerchi una casa da 100 metri quadri e vi dice un budget di 300 mila euro capisci che come te la trovo una casa perché o la trovi a 300.000 ma poi tutta da ristrutturare quindi spendi di più è inutile e quindi dopo dieci mesi che mi sono sbattuto quant'altro eccetera ho fatto una determinata richiesta che non hanno accettato e deciso di dieci mesi un grande quello che però devo dire che anche lì ero sono stato molto molto apprezzato avevo anche tenuto le mail che mi sono arrivati dai colleghi che avevo in ufficio tutti dispiaciuti perché bene andavo tra cui la telefonata di un altro mio collega che vi fa sono incazzato da un'ora che sono incazzato gli faccio perché perché non è possibile mandare via un ragazzo come te che era l'unico che si sbatteva lì dentro gli ho detto è ad un deciso così che ti devo dire quindi regalcicione quando si impegna ragazzi poi magari può essere capra mi ricorderò sempre mio carissimo amico quando lavoravo per lui all'agenzia di eventi prima di trasferirmi che mi fa Gigi sei una capra ma io un ragazzo che si impegna come te non l'ho mai conosciuto da quando lavoro perché veramente tu ci metti il cuore in tutto quello che fai certo mi pagano devo stare lì otto ore non sto lì a girare il pollice sto lì a darmi da fare sono pagato lo facevo per interlive che mi pagavano la mancetta del bambino bensiletto ed ero lì a sbattermi a fare 4 5 articoli poi mi sono girate le balle perché erano più devo fare più il grafico che non io non sono un grafico sono uno che scrive decentemente non voglio fare il fenomeno anche perché non mi è mai piaciuto io quelli che mettono re delle scommesse sono il numero uno ed è meno fare come il buon si vuol che adesso stavo vedendo gli ultimi video se lo mettete mi piace la vostra squadra a perdere non vincerà niente per i prossimi dieci anni oppure chi non si iscrive al canale non arriva natale potrei farlo anch'io tra l'altro io porto anche più sfiga di single quindi attenzione non si sa mai non sia mai che qualcun altro ci rimane sotto e purtroppo porto chi mi fa del male è come mettere il dito nella presa di corrente ma chi mi fa del male gratuitamente ripeto se qualcuno mi scrive Gigi non sono d'accordo per questo questo ci mancherebbe anzi sono anche contento così c'è un minimo di di dibattito di chiacchierata ma chi proprio fa later ecco non fatelo con me perché chi l'ha fatto purtroppo ma non per colpa mia eh io mi sono preso quello che è successo vabbè chi se ne frega mattina dopo mi chiamano Gigi sai che quello che l'altro giorno ti prendeva per il culo è morto un infarto secco va bene Gigi ma lo sai che quelle due persone che hanno fatto quella cosa lì il giorno dopo la mamma si è rotta il femore e il fratello si è rotto tutte e due le gambe bicchia io non ho fatto niente non ho fatto loro e io non gli ho ignorato niente non ho fatto tutto da soli e poi c'erano altri episodi di quando ero bimbo che preferisco sorvolare quindi non fatemi del male ma non se non siete d'accordo mi dite mi date delle ci mancherebbe sono ben contento ma venire a fare i di hater per divertirsi non lo fate perché io non vi dico niente ve l'ho detto affare vostro vi ho anche spiegato come mi comporto quando qualcuno viene a farmi la a mettermi l'insultino no io dico beh se mi ha insultato db il motivo mi riscrive l'insulto e io gli riscrivo mi spieghi perché mi ha insultato se ne va sparisce poi sono anche divertenti quelli che mi vengono a scrivere hai fatto 12 visualizzazioni hai fatto 28 visualizzazioni e fatto 29 visualizzazioni poi vai a vedere il loro profilo non ha mai fatto un video li seguono i due hanno proprio creato il canale per fare i rompiballe ragazzoli niente vi ho raccontato anche questa cosa qua del passato che francamente c'è purtroppo io lo centro dobbietta anche perché erano stupidate non è che era una cosa grave purtroppo sono cose che sono successi quindi evitate fatelo per voi non per me a me non interessa ormai un'età in cui quello che gli altri pensano di me a far loro non devo più rendere con il bello di della situazione in cui sono adesso il bello il brutto è che non devo più rendere conto a nessuno quando ero un bimbo dovevo rendere conto la mia madre mio padre e a tutti quelli che mi conoscevano perché poi la gente andava a dirla a riferire a mio padre mia madre determinate cose e poi loro potevano dare fastidio e quindi io mi sono sempre comportato da diecelode in condotta proprio per quello però poi va bene del servete non sono mai stato uno scavezza collo che cosa non cercava di essere sempre ligio però di fare il ricchi cantica vogli tanto e quando cercavo di spiegarlo ai miei loro vi diceva non me ne frega niente degli altri se ho capito ma io ci devo vivere con le altre persone e se io faccio il ricchi cantica della situazione le ragazze non mi cagano la risposta di mia madre era sempre la stessa se le ragazze sono delle deficienti la colpa non è tua e loro ho capito però purtroppo se sono circondato da ragazze deficienti e devo rapportarli con cui se a loro piacciono i pseudo figli io del mio piccolo devo cercare di essere minimamente figo infatti c'è stato il member del passato una notte una sera io non avevo ancora non avevo ancora la patente 17 anni e mezzo 18 anni uscivo con i ragazzi più grandi ero il più piccolo della compagnia gli altri avevano 19 barra vent'anni o magari qualche mese più di me era la macchina io non ancora quindi ogni tanto capitava gigi ci dispiace siamo già contati non c'è posta in macchina per te ci vediamo sabato prossimo tornavo indietro dei miei luigi cosa ci fai già non c'era posta in macchina infatti non vedevano l'ora che prendessi la patente proprio per quello perché così mi è preso la macchina almeno dovevo dipendere da nessuno c'è stata una sera che abbiamo fatto tardi non c'erano i cellulari allora ve lo ricordo noi non avevamo i cellulari perché potevi prendere il cellulare scusate un attimo facevi finta di niente chiamavi casa cercando di non farti notare se no c'era la solita battuta il bambinone chiama la mamma che fa tardi purtroppo se i miei volevano così io non ho chiamato sono tornato alle tre apro la porta per uno schiaffone disgrazia deficiente le questa l'ora de turnaca eccetera 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 e gli faccio è solo con gli altri non è che posso tutti noi ti diciamo un orario devi tornare a quell'ora se loro fanno più tardi tu prendi un tassi te lo paghiamo non ce ne frega niente e tu rientri allora che ti ho detto o se no telefoni chiami avvisi perché sennò ci preoccupiamo al che io giustamente facevo notare se faccio una roba del genere sono sputtanato a vita non ce ne frega un kaiser no frega me ma loro dai miei essendo del 1930 tutti e due avevano una mentalità diversa i genitori dei dei miei amici avevano almeno dieci anni di meno quindi li lasciavano più liberi i figli quindi non è che si facevano problemi allora che tornavano tornavano quando volevano non dovevano fare i bambinoni poi magari della vita non erano molto più espansivi con i genitori andavano a raccontargli tutti i loro problemi le loro cose eccetera io coi miei ero abbastanza schicetto poi va bene quando è venuto a mancare mio papà diciamo che via ma io e mia mamma siamo diventati più al dato che eravamo rimasti solo io e lei quindi dovevamo barca vedarci della nella vita quotidiana lei doveva cercare di fare da padre io devo cercare di fare comunque una parte da fratello maggiore o roba simile perché comunque mia mamma dipendeva sempre da me non sapeva guidare dove aveva un diploma una laurea non aveva neanche lei aveva la quinta elementare perché ve l'ho detto negli anni 30 la gente va da lavorare i figli non è che gli facciamo fare chissà mia madre era una bravissima sarta perché ha fatto era andata a lavorare in sartoria è imparato un mestiere e quindi lavorava come sarta e quant'altro poi logicamente con il negozio le bomboniere eccetera aveva sapeva fare delle cose veramente da libidile quindi dopo anche lì problemi perché essendo da sola non avendo la macchina eccetera quando io ero qui al lago del 90 dell'estate del 90 probabilmente 90 sì perché dell 88 89 no nell 88 purtroppo è venuto a mancare mio papà mi ha passato l'estate a domaso bruttissima bruttissima una cosa veramente vi lascio immaginare 89 90 sono andato all'isola d'elba ho fatto due settimane all'isola d'elba sia dell 89 che del 90 e poi ho fatto le vacanze a domaso torniamo avevamo una casa in affitto poi l'abbiamo acquistato quando mi sono trasferito nel 2012 e del 90 non siamo andati al mare quell'anno lì non siamo andati al mare perché la compagnia ognuno andava per i fatti i suoi e quindi abbiamo deciso facendo le vacanze sono a domaso prima sera torno alle 6 del mattino mia mamma disperata va chiuso fuori l'ha lasciato la porta vado a dormire in macchina o il padino ancora tanto era nel garage dobbia apre vado a dormire in macchina venuta giù a disgrazia le questa detto mamma sono le mie vacanze sono quadro baso non siamo andati dal mare vedete lasciate le gode no ma tu me lo devi dire che fai ca detto ma è normale che faccio sti orari cioè poi sono a piedi non è che sono in giro in macchina l'arbiti grado baso era la nostra discoteca quindi ero in giro a piedi poi si andava in spiaggia ed ero in giro a piedi c'era solo da attraversare la strada del della spiaggia tutta la combicola eccetera perché a quei tempi non è come adesso che va in spiaggia c'è il mortorio allora praticamente c'era compagnia di ragazzi all'inizio della spiaggia fino alla fine della spiaggia saremmo stati giù in mille no ma 500 si immaginate 500 ragazzi dispersi sulla spiaggia lo spettacolo per un ventenne ragazze dai 15 anni ai 20 più o meno straniere austriache svizzere olandesi tedesche ci sono stati un anno ci sono state anche delle messicane dico solo quello poi di tanto c'era qualche danese libidine altro che adesso mortorio ma in spiaggia c'è sì c'è allo stello aperto 44 persone 10 persone eccetera c'è al flambè che quest'estate poveracci lo vedo male perché non ci stanno umanamente non ci stanno perché è chiusa anche la sala andranno tutti di al flambè poveri ragazzi impazziranno va bene per loro è così lavorano eccetera però certo rispetto ad allora perché allora avevamo una discoteca e io ci ho lavorato dal 92 al 97 era che la cosa bella ci ho lavorato dopo aver finito di lavorare che ero in vacanza ma lavoravo lo stesso già fare il barista fatto tu ma vabbè ragazzoli alla fine della fiera altri 50 minuti di video perché vede gli argomenti tech 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 come le fragoline no o come diceva una tira l'altra una tira l'altra una tira l'altra alla fine vengono fuori questi video da libidine da 49 minuti che vedrete nella domenica alla dove alla dove alla domenica che cosa fai ti vedi il video del gigione che è bello è divertente che ti ricorda il passato detto questo ci vediamo alla prossima ve l'ho detto ragazzi non è colpa mia se succedono queste cose qua io non auguro sono la persona più tranquilla del mondo non auguro niente a nessuno però quando qualcuno purtroppo nella mia vita è venuto a comportarsi male senza motivo perché se io devo chiedere scusa chi mi conosce lo sa sono il primo si mette anche in ginocchio senza problemi anche se magari è una stupidata che uno dice gigi ma sei impazzito non hai fatto niente di male e ho capito ma se l'ha presa male chiedo scusa anche se sono in buona fede ho fatto una cosa carina se non è stata apprezzata ed è stata presa male chiedo scusa capita chiedere scusa e non è che vi devo che si non si deve vergognare perché ha chiesto scusa se sbagli siamo persone umane se sbagliamo in buona fede chiediamo scusa non c'è mica niente di male quindi però purtroppo sono successe queste cose qui è giusto dirvelo così uno lo sa poi che causa del suo mal che anche a se stesso detto questo vi saluto perché come al solito ho fatto un video di 51 minuti dove era mia intenzione ma alla fine della fiera è venuto fuori un altro video di 51 minuti ciao